Buonasera, benvenuti alla nuova puntata di Instant Book, idee e scritture per il futuro. Abbiamo ospite una vignettista pugliese, barese, importante perché fa vignette, crea vignette per l'unità, Alessandra Celamare, detta Alecella. Alessandra, noi ci conosciamo da un po', io ti ho conosciuto come carta pestaia, nel senso che facevi le maschere quando eri piccola, poi come architetto e poi alla fine ti riscopro vignettista. Mi spieghi e spieghi al pubblico come si fa a diventare vignettisti? E niente, diciamo che si nasce un po' Pagliacci. Ecco, Pagliacci con la matita e con la penna. Esatto, ecco la carta pesta. Sono sempre stata un po' idiota e facevo la caricatura a chiunque già da quando andavo all'asilo, per cui con tutti i materiali che avevo a disposizione, dalle matite ai penarelli, alla carta pesta e adesso con il computer, non ho fatto altro che prendere in giro tutti. E infatti ho avuto molto successo nella vita per questo motivo, tant'è vero che adesso sono praticamente disoccupata. No, vabbè, la mia occupazione è piacevole insieme agli amici dell'unità e di virus. Chiaramente non mi dà da vivere perché è come non dà da vivere a tantissimi, però almeno sopravviviamo sorridendo. Alessandra, tu prima, quando io ti ho chiesto se potevo presentarti come fumettista, mi hai corretto? Ho detto, no, non fumettista, vignettista. Io ho degli amici fumettisti che però gravitano nel circuito underground bolognese, sono dei pugliesi che hanno messo su una posse e loro si autoproducono e vendono i prodotti. Dimmi un po' qual è la differenza tra voi vignettisti, che hai fatto ovviamente Satira, e i fumettisti, e poi se voi vignettisti locali in qualche misura vi frequentate come fanno alcuni scrittori o come avviene in altri circuiti, come nel circuito musicale. Dunque, in realtà io non faccio parte di un circuito locale. Se c'è un circuito. Che io sappia, non c'è. Tra l'altro mi trovo anche un po' per caso in questa veste da vignettista, che chiaramente è diverso da essere fumettista, perché il vignettista satirico è colui che comunque si nutre di qualcosa di molto più denso e immediato rispetto al fumetto, che è più lungo e più narrativo. E c'è una storia. E c'è una storia. Il vignettista è colui che con una battuta o con pochissime battute deve esprimere un concetto appunto politico o che riguardi, diciamo, la società che viviamo. Faccio parte di un circuito che è molto più allargato, cioè non è locale, quindi non è riferito a Bari, ma che prende un po' tutta l'Italia, che è il circuito di virus. In pratica, in questo momento, tutto gira sul web e di conseguenza le distanze si accorciano, non c'è più la necessità di incontrarsi in un caffè. In uno spazio fisico. In uno spazio fisico, ma ci si incontra quotidianamente in uno spazio virtuale. Diamo qualche indicazione dove possiamo trovare Virus? Allora, Virus è un gruppo che si è creato per la volontà di Francesca Fornario, che è un'ottima autrice satirica dell'Unità e che ha selezionato una decina di autori, di vignettisti, diciamo, le ha selezionate in base alle cose che in pratica venivano mandate sul web, perché molti di noi in realtà non lo fanno come mestiere, anche perché, come dicevo prima, non si riesce a vivere. Per cui siamo commercialisti, architetti, giornalisti che hanno molto tempo libero, purtroppo, e in un certo senso... Vi producete anche in questo lavoro o non lavoro. Esatto. E poi, chiaramente, da questi incontri virtuali nascono anche degli incontri veri, fisici, per cui alla fine... Perché voi vi incontrate periodicamente. Ci incontriamo periodicamente, ci invitano, esponiamo i nostri lavori, incontriamo anche altre realtà, per esempio, in primavera siamo stati in Sardegna col Popolo Viola, e quindi, durante questi incontri, ci si confronta e ci si seleziona. Cioè, alla fine, non si è deciso un pensiero politico o editoriale, ma ci si riconosce. E quindi, l'aggregazione arriva in base a una selezione naturale. Ecco, Alessandra, per chi volesse prendere contatti con virus, oppure visualizzare quelle che sono le vostre tavole, come può fare sul web? Ecco, questo è un piccolo problema, perché non c'è molto spazio, devo ammettere, sul web, sull'unità. Cioè, lo spazio web che dà l'unità a virus è molto ridotto e poco aggiornato, per cui rimane, per il momento, un progetto semplicemente da visionare sull'unità. Che è virus.unita.it. Sì. Ok, quindi virus.unita.it Mi auguro che l'unità investa in futuro sulla satire, anche perché l'impegno dell'unità con la satire storico dispiacerebbe che si perdesse e rimanesse semplicemente... Ecco, stiamo vedendo alcune delle tue vignette apparse nell'ultima settimana, mi pare, proprio sull'unità. Questa è una vignetta su Berlusconi, mi avvalgo della facoltà di non rispondere di me, cosa che lui fa sempre, fa costantemente. Sì. Sì, ci auguriamo tutti che l'unità riprenda a fare satire, magari con un inserto, come la cuore. Anche se di questo argomento ne parliamo spesso, la satire in questo momento vive una crisi, soprattutto a livello editoriale, mentre sta rinascendo sul web, proprio perché il web è attualmente l'unico posto virtuale dove si può dire la propria idea in maniera libera e anarchica, cosa che non si può fare su un giornale, perché per quanto si possa essere libero, io non sono mai stata censurata, però non hai la totale libertà di espressione. Ma come funziona? Ti viene commissionata una vignetta a tema? No, assolutamente. Funziona in maniera molto semplice. Noi siamo un gruppetto di persone, abbiamo un blog privato. Che si chiama? Si chiama Virus, però è appunto un blog privato e noi quotidianamente pubblichiamo i nostri lavori, ci confrontiamo, ci diamo anche dei consigli a vicenda. Dopodiché la vignetta che è la striscia, perché poi sull'unità vengono messe delle strisce, la striscia migliore viene pubblicata. Chi la seleziona? Diciamo che, allora, la nostra capitana è Francesca Fornario, però diciamo che è quasi democratica la... Le scegliete anche voi. Sì, 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 un po' sì. Devo dire che è molto difficile riuscire a ritrovarsi con gli stessi gusti, diciamo le stesse idee, anche da provenienze diverse, perché poi in realtà noi veniamo un po' da tutta Italia, c'è chi viene dalla Sardegna, chi dalla Puglia, chi viene dall'Emilia Romagna, anche con storie professionali, politiche diverse alle spalle. Però in realtà siamo tutti incazzati, diciamo, questo è il denominatore comune. Avete tutti la stessa età, più o meno? Sì, più o meno, sì, più o meno andiamo dai 30 anni ai 40. Dai 30 e 40? Sì, esatto. Non di più. Esatto, no, no, siamo più o meno... Siete, diciamo, una parte importante di quella generazione di sfessati che vive il massacro operato dalla generazione di chi sta sopra. Sì, sì, purtroppo sì. Io mi auguro che ci sia comunque un'evoluzione di questo gruppo e se non proprio di questo gruppo, in generale della satira. Leggevo che Aldo Grasso criticava la satira che c'è in questi mesi, in questi anni anche, direi. Lui rileva che sia un po' edulcorata e poco graffiante. Ed è quello che penso anche io. Sto prendendo un'altra vignetta tua. Sì, qui mi beccherò qualche denuncia. Ti beccherò la denuncia, non leggiamo il fumetto. Quindi stavi dicendo, satira edulcorata in Italia. Sì, un po' sì, perché in realtà il problema è questo, che è difficile fare satira quando vedi che una donna come la Sant'Anché mostra il dito medio a un'altra donna. Oppure quando, diciamo, la persona che fa le leggi sulla prostituzione è legato alla prostituzione fino al proprio midollo. come si fa a fare satira? Come si fa a fare una battuta su una cosa del genere? Cioè, prima Spadolini era denudato e faceva ridere. Il Papa veniva sfottuto e faceva ridere. Adesso questa cosa non è più... Adesso Berlusconi è nudo di suo e non fa ridere ma fa piangere. Oppure fa esaltare le masse. Sì, quindi diventa difficile capire cosa fare per renderli ancora più nudi, questi personaggi. Quindi questa è la difficoltà che incontrate voi. Alessandra, fermiamoci qui per la prima parte della puntata di Instant Book. Nella seconda parte approfondiamo il discorso su come si fa satira e come si può fare satira anche in questa regione.